Ormai viviamo in un'epoca che chiunque in qualche modo può essere famoso per i classici 5 minuti, no? Ma in tutto il mondo. E basta magari una foto, un posto, un video su internet, tac, scatta il mi piace, la condivisione, i commenti e tu in poche ore diventi famoso in tutto il mondo. Abbiamo postato sul gruppo Facebook, non per diventare famosi, no? Questa copiata improbabile, però di successo. Cioè, donne e erogadatori d'acqua. Hai presente la classica bolla, no? La bull dove prendi l'acqua nei posti di lavoro, eccetera. Ecco, abbiamo messo una foto per farvi capire la posizione sexy. Ecco, la ragazza protagonista di questa foto ha beccato in pochi giorni migliaia e migliaia di mi piace, di contatti. Tutto nasce dal video di Drake, che inizialmente ovviamente non era famosa, no? Poi la gente ha cominciato a cercarla, a cercarla, a cercarla, finché qualcuno ha detto guarda che è Damaris questa ragazza qui ritratta nel video e nella foto. Migliaia e migliaia di like. Il suo profilo Instagram praticamente è andato in tilt in poche ore. Però l'accoppiata è bella, no? Erogatore, donne e sexy. Voi che ne dite? Beh, abbiamo ancora qualche minuto per sentire la vostra sul gruppo Facebook del Dancing Day Time. L'ho postato anche sul mio profilo. A proposito di post che possono fare il giro del mondo, stamattina mi sono tolto una soddisfazione. Non dico cosa, perché sono cose personali, però sai quando ti togli una soddisfazione e ti dai le pacche sulle spalle? Bravo, bravo Mauro, bravo, hai fatto bene, bravo. No, ho scritto una cosa su Facebook, sul mio profilo personale, Mauro Vai. 70 mi piace in pochi minuti. Non più bravo Mauro, bravo. Ero uno, insomma, su internet può anche, tra virgolette, diventare famoso. Fra poco allora sentiamo le vostre, mandateci i vostri messaggi su Facebook. Ho anche il profilo Instagram, però non lo curo mai. O su sms e whatsapp al 349 005 3965.